E' sempre collegato con noi da Milano Angelo Baglioni, economista dell'Università Cattolica della Voce.info, benvenuto. Buonasera. Baglioni, possiamo dire che una delle cose che stanno succedendo con la questione della Grecia è che adesso abbiamo capito come si esce dall'euro, nel senso che a quanto pare la via è che le banche rimangono senza soldi, la BCE non glieli dà più, cosa che potrebbe succedere se non si trova nessun accordo tra la Grecia e l'Europa e a quel punto il governo greco per tenere in piedi il suo sistema finanziario dovrebbe stampare dei soldi di qualche tipo. E' così che può succedere? Questa nuova crisi greca ci sta dicendo come può avvenire materialmente un'uscita dall'euro? Come potrebbe avvenire l'uscita dall'euro non lo sa nessuno, una cosa che non è mai stata prevista e scritta da nessuna parte, tanto meno nei trattati. È un evento che va assolutamente scongiurato. A me sembra che i mercati finanziari in questa fase stiano un po' sottovalutando questo rischio, nel senso che stanno penalizzando la borsa e i titoli di Stato greci, mentre non stanno assolutamente penalizzando quelli degli altri paesi anche ad alto debito come l'Italia. Quindi l'idea sottostante a questo andamento dei mercati finanziari è o che non ci sarà un'uscita della Grecia, oppure che se anche ci sarà possa essere gestita come un evento isolato che finisca lì. Temo che se dovessimo arrivare a quello invece potrebbe scatenarsi un effetto a catena, i mercati poi dopo comincerebbero a domandarsi qual è il prossimo candidato a uscire dall'euro e via dicendo. Quindi spero proprio che non ci si arrivi. Certo, tecnicamente è vero che se proprio ci si dovesse arrivare probabilmente il modo sarebbe quello, cioè un'interruzione di questa linea di finanziamento di emergenza, la cosiddetta ELA della Banca Centrale Europea, di fatto costringerebbe la Grecia a riprendersi la sua moneta per poter ridare liquidità alle banche greche, che a quel punto sarebbero totalmente sprovviste di risorse finanziarie. Io credo però che prima che si arrivi a questo, che prima che si arrivi in qualche modo a staccare la spina alla Grecia, si faranno tutti i tentativi per tentare di comporre una trattativa che è ancora in pieno svolgimento, che certo è molto difficile, che tutte e due le parti dovrebbero cercare di fare del loro meglio, insomma per puntare a una conclusione positiva. Cerchio, vorrei andare da Baglioni, perché? Allora, Varezzoni dice che questo è il piano B, perché il piano A sarebbe stato mettere un sacco di soldi negli investimenti subito, magari con degli euro bond condivisi a livello di rischio da tutta l'Europa, così lì proprio era botte di ferro. De Felice dice che il piano che c'è per gli investimenti, che è quello Juncker, insomma di soldi veri ne ha veramente pochi, c'è questa scommessona gigante che ne arrivino di privati in quantità esorbitante. Baglioni, anche lei concorda che c'è un po' un'assimmetria tra i 1.100 miliardi di draghi e i 16-17 miliardi veri, non ricordo a memoria quanti siano, del piano Juncker? Sì, naturalmente ci scontriamo contro questo vizio strutturale dell'Unione Europea, almeno dell'area euro, cioè di avere una politica monetaria unica, però non avere nessun coordinamento delle politiche fiscali e non avere un bilancio comune e federale di una qualche dimensione consistente, come l'hanno invece negli Stati Uniti. Quindi mentre negli Stati Uniti, come si diceva giustamente prima, la politica monetaria espansiva di quantitative easing è stata accompagnata da una politica anche fiscale espansiva, in Europa questo al momento non avviene, non può avvenire, per i vincoli dei noti accordi europei, fiscal compact, eccetera, eccetera, per il fatto che non c'è un coordinamento delle politiche fiscali e quindi anche i paesi come la Germania che hanno buoni saldi di bilancio pubblico non fanno una politica fiscale espansiva, cosa che invece dovrebbe fare, perché questo impedisce naturalmente di fare un piano di emissione di euro bonds, è assolutamente fuori discussione, non è assolutamente in agenda per i motivi politici che si ricordavano prima. Il piano Juncker è sostanzialmente, se mi permettete il termine, una bufala, perché erano stati promessi 300 e rotti miliardi, in realtà ne sono stati messi sul piatto una ventina, peraltro sottratti ad altri capitoli di spesa come i fondi strutturali o dal bilancio della BEI, quindi pensando di mettere 20 miliardi sul piatto può fare una leva finanziaria di circa 15 volte e quindi attrarre capitali privati fino ad arrivare a una cifra di 300 miliardi, quindi è una cosa assolutamente irrealistica e insufficiente. Quindi purtroppo l'efficacia del quantitative easing in Europa sarà necessariamente molto più limitata che negli Stati Uniti o anche in Inghilterra, nonostante, come si diceva, un qualche effetto soprattutto sul cambio l'abbiamo già visto e questo sicuramente favorisce i settori esportatori. E allora su questo vorrei...